Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Voglio partire forte oggi con una domanda che è stata fatta anche ieri a Tutti in the Box, ho seguito la puntata indifferita e sono curioso di parlarne anche insieme a voi perché secondo me ci sono alcuni aggiornamenti importanti. La domanda è la seguente. Massimiliano Allegri, rischia l'esonero in corsa? Domanda pesante, domanda impattante, soprattutto ingombrante per quella che è la figura di Allegri e per quello che sembrava essere invece il percorso della Juventus in questa stagione. È una domanda che circola, è una domanda che è stata fatta a più riprese, me la sono ritrovata anche qui nei commenti e quindi mi sono detto d'accordo, se inizia a essere qualcosa di così chiacchierato cerco di dare anch'io la mia opinione. Ma per rispondere a questa roba qui bisogna cercare di entrare nella crisi attuale della Juventus che sta vivendo da qualche giornata a questa parte, ma non solo. Infatti bisogna tornare un pelo indietro, però voglio partire dall'inizio del 2024 perché la Juventus parte molto bene con 5 vittorie di fila tra Campionato e Coppa Italia. Lo ricorderete, era il periodo in cui la Juventus aveva iniziato a segnare anche di più, 18 gol fatti e soltanto 2 gol subiti nelle prime 5 partite dell'anno. Sembrava essere una Juventus che aveva provato a fare qualcosa in più anche rispetto al filotto di partite dove nell'andata si erano portati a casa dei risultati molto in equilibrio ed erano molto anche in discussione e invece in queste prime 5 partite dell'anno la Juventus aveva aumentato quella che era la proiezione offensiva. Poi dopo Juventus-Empoli, compreso Juventus-Empoli, molto male perché si tratta di 7 partite con una sola vittoria al 95esimo minuto in mischia con un difensore centrale contro una rosa disastrata in Serie A come il Frosinone in casa davanti al proprio pubblico. 6 punti nelle ultime 7 partite, soltanto 9 gol fatti, ben 11 gol subiti. La Juventus che si aveva retto il colpo overperformando nel girone d'andata subendo pochi gol nel girone di ritorno si è sgretolata completamente e in queste ultime partite ha perso quello che sembrava essere un vantaggio molto importante nei confronti delle squadre che stavano dietro tant'è che sembrava anche folle poter mettere in discussione la possibilità della Juventus di arrivare a giocarsi l'ingresso alla zona Champions cosa che secondo me anche in questo momento è da scongiurare la Juventus per quanto mi riguarda è al sicuro però bisogna anche considerare quelle che sono state le dinamiche della classifica nelle ultime giornate perché infatti la giornata 21 prima di Juventus-Empoli la Juventus si trovava a soltanto 2 punti dall'Inter a 7 punti di vantaggio sul Milan e addirittura più 17 dalla quinta posizione che all'epoca era occupata dal Bologna. Oggi, quasi 40 giorni dopo qualcosa del genere, dopo l'Atalanta la Juventus è a meno 17 dall'Inter, ha preso 15 punti in più di svantaggio nei confronti dei nerazzurri, è a meno 1 dal Milan che nel frattempo ha superato la Juventus e anche questo sembrava abbastanza impronosticabile è soltanto a più 7 sul Bologna, quindi gli Emiliani hanno rosicchiato 10 punti alla Juventus e ora la quinta posizione è distante soltanto 10 punti quindi più 10 sulla quinta. Io ribadisco, per me la Juventus non rischia di uscire dalla zona Champions perché oggi inizia una sorta di campionato con 10 partite a disposizione in cui la Juventus parte con 10 punti di vantaggio almeno considerando che può esserci addirittura un quinto slot per la qualificazione alla Champions League e considerando che ogni singola giornata quando le squadre dietro la Juventus non andranno a fare i 3 punti sarà un vantaggio matematico per la Juve che dovrà fare meno punti per arrivare aritmeticamente in Champions quindi effettivamente dal punto di vista matematico l'ultima giornata di Serie A è stata una giornata positiva per la Juve se ragioniamo sull'obiettivo minimo 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 poi che la Juventus non debba ragionare sull'obiettivo minimo 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 per me è un dato di fatto se ragioniamo semplicemente con il risultatismo assoluto e ieri vi dicevo che questa è la grande problematica della Juventus beh, l'importante è arrivare in Champions costi quel che costi magari anche all'ultima giornata magari anche in quinta posizione facendo gol all'ultimo secondo nei confronti della squadra che invece poteva arrivare quinta e arrivare a sesta potrebbe benissimo succedere anche una roba del genere ma poi la percezione tra Sto General e Juventus non sarebbe positivo già non lo è adesso nella sua totalità in quel caso sarebbe ancora più forse umiliante uso un termine anche forte dico umiliante quindi io non credo che la Juventus avrà i dubbi sul fatto che l'anno prossimo giocherà o meno la Champions sono troppo ottimista? boh, non lo so mi sembra quanto più di essere realista vedo tanta negatività giustificata non sono qui a dirvi che la Juventus nelle prossime dieci partite farà bottino pieno le vincerà tutte vincerà la Coppa Italia e robe del genere anche se ho visto che anche la Lazio non è proprio il suo momento migliore in assoluto e sarà una semifinale di Coppa Italia abbastanza povera vi dico semplicemente che il vantaggio numerico dal punto di vista del rendimento della prima parte della stagione è stato talmente tanto ampio da permettere alla Juve secondo me di poter dormire sogni tranquilli per quanto riguarda l'obiettivo minimo quindi qualificazione alla Champions di Riffa o di Raffa poi ragazzi questo resta un rendimento di basso livello da zona retrocessione dove la Juventus dall'inizio dell'anno ha battuto solo Salernitana Sassuolo Frosinone Lecce alcune anche due volte tra Serie A e Coppa Italia come mi pare Frosinone e Salernitana e se andate a prendere la classifica attuale di Serie A significa che la Juventus ha battuto 4 tra le peggiori 5 squadre di Serie A e sei riuscito a battere tra queste soltanto il Frosinone nelle ultime partite eppure a fatica con tutto quello che abbiamo criticato ampiamente nelle ultime settimane quindi è un discorso legato soltanto al rendimento attuale oppure no la possibilità di vedere un esonero in corsa di Massimiliano Allegri e allora qui bisogna prendere in considerazione tutti i dati dell'Allegri 2.0 perché d'accordo sì la Juventus è in crisi nera di risultati però poi bisogna anche pesare ogni singola stagione da quando Allegri è tornata in panchina e quindi vi posto un breve video che ieri ho diffuso sui social eccolo qui cambiando allenatore la Juventus migliorerà il suo rendimento al 100% per me no perché non abbiamo certezze su questo però una cosa è certa l'Allegri Bissi in questi tre anni è stata una delusione e oggi voglio riassumerlo con dei freddi numeri 138 partite giocate e ben 133 gol subiti contro i soli 214 fatti significa in media quasi un gol subito a partita e poco più di 1,5 per la realizzazione troppo poco soprattutto considerando Allegri un allenatore che guarda con buon occhio la fase difensiva 77 partite vinte 33 partite perse e 28 pareggiate significa soltanto il 55,8% di vittorie raggiunte e questo si trasforma in zero titoli nei primi due anni e mezzo sperando nella Coppa Italia di quest'anno che ad oggi non è per niente scontata d'accordo la Juve sta attraversando un momento negativo ma l'istantanea non è questa da soltanto in inizio stagione quindi per rispondere alla domanda iniziale no non è detto che si migliorerà ma in tre anni le partite ci hanno dato questo tipo di giudizio e secondo me di migliorare ancora utilizzando questo approccio ci sono ben poche possibilità la sensazione è quella di una squadra che sta prendendo le stagioni e le sta replicando come se fosse stato utilizzato uno stampino in questa stagione senza difficoltà dal punto di vista extracampo se non Fagioli e Pogba che sono stati casi riassorbiti abbastanza in fretta e la Juventus dal punto di vista del rendimento non ha risentito di questa roba qui non ci sono le coppe in settimana quindi la Juventus ha un'intera settimana a disposizione per preparare partite e comunque in campo non sembra esserci una preparazione assolutamente adeguata per nulla e quindi ragazzi poi al terzo anno di una guida tecnica si spera di vedere dei miglioramenti la Juventus in questo momento ha meno punti dell'anno scorso ha subito un gol in più ha segnato due gol in meno non è sempre soli punti e anche il campo e dal punto di vista dell'atteggiamento tattico io penso a quell'udinese Juventus 2-2 la prima dell'Alegri Bis o quel Juventus Empoli 0-1 la prima in casa dell'Alegri Bis penso a Juventus Atalanta 2-2 e vedo una squadra che ha le stesse problematiche che in fase difensiva non è solida tant'è che una delle squadre di Allegri anzi una squadra di Allegri che arriva a subire praticamente un gol a partita per oltre 140 partite è sinonimo di fase difensiva non di livello tant'è che la Juve continua a prendere gol anche a difesa schierata e non è un discorso che se stai più alto se sei più coraggioso provi a chiudere le partite allora puoi rischi di prendere gol perché l'abbiamo visto la Juventus i gol li prende anche se sta bassa o se sta passiva anche qualche metro più avanti è un discorso che la fase difensiva non sta funzionando per non parlare di quell'offensiva perché significa che statisticamente le partite dell'Allegribis finiscono 1,5 a 1 non si vince 1,5 a 1 non si tratta nemmeno più di cortomuso e infatti la percentuale di vittorie dell'Allegribis è poco superiore al 55% e in Serie A la media punti è più bassa di 1,9 mi pare poco più bassa di 1,9 quindi stiamo parlando veramente di qualcosa di brutto di brutto in generale in tutti questi anni poi ieri ne parlavo con Lello chino maschera e dicevo ragazzi occhio perché ho visto che TuttoSport sta un pochettino iniziando a cambiare quella che è la narrazione inerente ad Allegri e quando stanotte ho visto la prima pagina di TuttoSport di oggi mi sono fatto due domande perché è vero che poi c'è l'editoriale di Iva Ciago me lo sono letto è un editoriale molto più morbido rispetto al titolone però già ieri e già oggi tra le prime pagine e i tweet sul profilo Twitter di TuttoSport che vanno a punzecchiare un pochettino il lavoro dell'allenatore sapete bene che dal punto di vista della comunicazione titolone batte contenuto e lo so bene perché tante persone leggono il titolo e succederà anche in questo Allegri rischi e le sonore sì no bim bum senza ascoltare quello che effettivamente poi andrò a dire dal punto di vista comunicativo il titolo è impattante e fa tanto io lo so voi lo sapete lo sappiamo tutti e vi dico che se una testata molto vicina alla Juventus e anche la dirigenza della Juventus come TuttoSport va a fare determinate riflessioni qualcosa dentro la Juventus potrebbe essere cambiato io vi dico non credo che la Juventus si esonererà Allegri a stagioni in corso credo però che sia stato quanto meno doveroso fare delle riflessioni su questa roba qui e vi dico anche che per me la Juventus se davvero ha deciso di cambiare Allegri a stagione in corso ripeto cosa che non penso accadrà ma se la Juventus ha davvero pensato a questa roba anche se domenica la Juventus col Genoa vince 5-0 facendo il 98% nel possesso palla e giocando il 12% del tempo nella propria metà campo la Juventus prende Allegri esonera perché non può essere una partita in casa con il Genoa a farti ricredere su quello che deve essere il futuro di un tecnico o la percezione finale ripeto per me la Juve non rischia in questo momento storico perlomeno poi abbiamo visto che 7 partite possano ribaltare il mondo ma ad oggi non rischia di non qualificarsi per la Champions perché? perché parte un nuovo minicampionato in cui i 10 punti di vantaggio e a volte anche non giocando puoi allungare dal punto di vista matematico e guadagnarti dei vantaggi quindi ripeto sarebbe un po' però se la Juve ha avvertito la percezione del rischio di non qualificarsi alla Champions o la percezione del rischio di avere una squadra che non sta più seguendo l'allenatore al 100% allora anche in caso di vittoria per 5 a 0 domenica dato che ci sarà la pausa nazionale la Juventus andrà a desonerare Allegri per me no però ovviamente la mia opinione è contro quello che effettivamente potrebbe accadere le alternative in corsa non aspettatevi nomi di livello perché mancano 10 partite di Serie A e dopo già non ne mancheranno 9 più 2 di Coppa Italia e si spera 3 quindi nel caso la Juventus andrà a desonerare allenatore il nuovo allenatore avrà soltanto 12 partite a disposizione per terminare la stagione e soprattutto se la Juventus vuole cambiare guida tecnica l'anno prossimo cosa che secondo me sta effettivamente pensando e anzi per me l'ha già deciso non andrà a impiccarsi con un contratto di un allenatore di un certo tipo adesso in corsa quando ci sono meno allenatori pappabili sul mercato tradotto non credo che vada a prendere Conte e fargli un ingaggio da 7 8 quelli che sono milioni con Conte che va a prendere in corsa una Juventus che ha bisogno di lavorarci sulla Juventus per farla rendere in un certo modo no non credo anche perché la Juventus deve ragionare anche dal punto di vista economico finanziario è un esonero da parte di Massimiliano Allegri costerebbe tanti soldi alla Juve quindi non credo che sia proprio possibile percorribile la strada di Conte in corsa per me questa è proprio un'utopia totale Tudor Tudor è libero però secondo me la Juventus non va a prendere un allenatore come Tudor quando magari tra due mesi si liberano altre panchine interessanti come quella del Bologna e si può andare a prendere Tiago Motta che secondo me è il nome che Giuntoli ha in mente in questo momento qua quindi se dovesse mai accadere che la Juventus andrà a esonerare Allegri in corsa cosa che per me non accadrà mi immagino un traghettatore mi immagino un Paolo Montero che viene semplicemente promosso la guida della prima squadra per terminare al meglio la stagione per dare lo scossone alla squadra io voglio ribadire questo concetto per me Allegri merita assolutamente l'esonero 100% e non da oggi lo sapete per me nemmeno dovevo iniziare questa stagione per me andava esonerato quando l'anno scorso c'è stata la pausa nazionale dopo Monza o al limite al termine della passata stagione non dovevo iniziare questa stagione avevo le percezioni che la Juventus avrebbe fatto una stagione simile alle precedenti speravo di essermi sbagliato col seno di poi purtroppo è venuto fuori che quella lettura che avevo fatto era corretta sperando che la Juve possa smentirmi nelle ultime partite vincere le prossime 10 e vincere la Coppa Italia spoiler non credo che accadrà però Allegri merita assolutamente l'esonero 100% poi che cambiando solo Allegri la Juventus l'anno prossimo riesca a vincere subito io questo non ve lo posso garantire anche perché Allegri ha avuto tre anni a disposizione per provare a vincere e non ci è riuscito io sono dell'idea che ci sia sempre necessità di dare tempo agli allenatori tant'è che al termine della prima stagione dell'Allegri bisdico per rendimento meriterebbe l'esonero sì gli diamo un'altra stagione per me sì perché voglio vedere che cosa fa però poi deve fare non ha fatto e infatti il mio pensiero è stato corretto e coerente secondo il mio punto di vista di andare nella direzione del cambio in panchina è stato dato ancora più tempo all'allenatore siamo ancora per quanto mi riguarda punto a capo lettera maiuscola in questo momento le dichiarazioni di Allegri delle persone intorno ad Allegri secondo me stanno diventando molto tossiche molto tossiche e sono veramente convinto che dentro la Juventus questa roba dia fastidio e non poco e quindi nel caso potrebbe accadere quello che io ritengo improbabile cioè un cambio anche in corsa dopo Juventus Genoa ripeto quello che un po' mi lascia perplesso è vedere tutto sport che ha iniziato questo tipo di atteggiamento differente rispetto al passato e solitamente quando si va a dare un cambio di direzione dal punto di vista anche banalmente solo dei titoli che poi diventa il percepito nei confronti di chi effettivamente il giornale non compra gli articoli non le legge che possa essere stato preparato un po' il terreno a parte la società a qualcosa che accadrà molto presto anche se lo ritengo improbabile boh vedremo